Saranno pagati dopo Pasqua, nella prima settimana di aprile, gli stipendi per i dipendenti comunali di Tortorici. Ad annunciarlo è stato il sindaco Carmelo Rizzo Nervo, evidenziando anche che per il mese di marzo è stata riperita la provvista per il pagamento degli emolumenti stipendiali, come fra l'altro ha fatto in tutti i periodi pregressi sin dal gennaio 2017. Una situazione che si è concretizzata a parere del primo cittadino, nonostante i ritardi della regione siciliana, nell'accreditamento delle corrispondenti spettanze, che ad oggi ammonta circa 850 mila euro, ancora da ricevere relativi agli anni 2017 e parte del 2018. Lo stipendio di marzo ve l'ha liquidato ad aprile, nonostante le somme, circa 220 mila euro, fossero già disponibili dal 23 marzo e solo per inefficienza degli uffici, ha scritto ancora Rizzo Nervo, non sono stati prelevati tempestivamente dalla Cassa regionale. Visto che la disponibilità economica c'è, a stretto giro sarà pagato lo stipendio. Verificherò se sussistono responsabilità nei confronti di chi non ha consentito il pagamento del mese di marzo prima delle festività pasquali. Sul pagamento degli stipendi arretrati alcuni giorni fa si è acceso un duro scontro tra lo stesso Rizzo Nervo e i sindacalisti della CGL Funzione Pubblica.